Si dice che il rugby sia un gioco da hooligans praticato da gentlemen e questo credono i tifosi sbarcati in Giappone per la nona edizione del campionato del mondo che inizia questo sabato. Le squadre cominciano ad arrivare, Francia e Argentina sono fra il Monte Fuji e Fukushima, i giocatori sono stupiti dalla gentilezza nipponica. E' bello questo ambiente che ci ispira e qui è possibile preparare questa competizione nel miglior modo possibile. Ci hanno ricevuto benissimo, la gente è gentile, le installazioni sono fantastiche. 6.000 volontari hanno ricevuto le delegazioni assettendolo almeno un mezzo milione di fan in uno sport che ha avuto qualche difficoltà ad attecchire in questo paese. Il trend però sembra stia cambiando. Abbiamo in tutto circa 13.000 volontari, 7.000 di loro lavoreranno nelle città ospitanti, nelle stazioni ferroviarie, nelle fan zones e saranno in giro ad accogliere la gente. L'atmosfera comincia a scaldarsi nelle strade di Tokyo man mano che aprono le fan zones e di persone se ne attendono davvero tante. E' una grossa occasione per il Giappone, forse questo sport diventerà più popolare e noi speriamo in un buon risultato a questi mondiali. 48 incontri in 12 località, con la finale attesa il prossimo 2 novembre.